La minaccia di Mario Occhiuto viaggia sulla rete attraverso i social. Il sindaco di Cosenza si scusa per i disagi determinati nel periodo natalizio dalla presenza in città di tanti cantieri, lanciando contemporaneamente un avvertimento all'indirizzo della regione. Se i lavori per la realizzazione della metro non rispetteranno il cronoprogramma, non si farà scrupolo di ritirare le autorizzazioni di costruzione dell'opera, magari per poter poi prendere gli stessi il comando della situazione, se riuscirà a completare con successo la scalata alla presidenza. Insomma, le preoccupazioni dei cittadini per la lentezza con cui si procede all'interno del cantiere hanno fatto breccia tra le stanze di Palazzo dei Bruzzi, ed in effetti non si può certo dire che lungo via Le Mancini sia un brulicare di operai. Nessuna traccia di automezzi, né di personale, un cantiere fantasma. Ma c'è un'altra questione che agita i sogni del sindaco, quella del malcontento manifestato dai commercianti di via Piave e via Isonzo per l'ampliamento della ZTL durante il periodo natalizio. Il divieto di transito scatta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20, mentre su entrambi i lati della carreggiata è stata interdetta la sosta anche per gli autorizzati. La gente non può passare, non può parcheggiare, parecchie hanno preso molte multe, hanno paura ormai a venire qua. Gli incassi sono dimezzati al 50%, non si capisce se è un'isola pedonale, se è una ZTL, è una confusione enorme, la gente non riesce più a raccapezzarci. La novità è segnalata ai varchi, ma come al solito sono decine di automobilisti disattenti a violare il divieto. Non ha visto che il varcho era chiuso? No, di qua. Sì. Mamma. E ho visto le altre macchine che sono passate. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Salvatore Bruno per la Cineus 24.